buongiorno amici investitori sono dario sicuro e oggi siamo di nuovo a torre dell'orso innanzitutto volevo ringraziarvi per i tanti commenti visualizzazioni e tutte le chiamate che ci avete fatto per il video precedente di qualche giorno fa oggi siamo quindi sempre a torre dell'orso in una zona sempre centrale e vi farò vedere un'abitazione con accesso semi indipendente in quanto c'è una scala privata da cui hanno accesso due singole unità abitative seguitemi vi farò vedere questo splendido appartamento ad un prezzo ottimo ingresso dei due immobili scala in parte coperta molto verde intorno signori abbiamo un salone comodo molto grande con porta finestra e finestra dal salone si è accesso un balcone per passare dei bei momenti per la colazione o eventualmente per delle cene all'esterno salone con angolo cottura accendiamo la luce bagno con box doccia due camera da letto di cui una matrimoniale con ampia finestra questa è la vista sulla parte retrostante sempre molto verde intorno adesso andiamo vi faccio vedere la seconda camera da letto che ha un bel balcone di pertinenza sempre tanto verde intorno faccio fare un giro veloce quindi abbiamo camera da letto matrimoniale seconda camera da letto bagno con box doccia e ampio salone con angolo cottura con finestra e balcone sulla parte anteriore adesso seguitemi che vi faccio vedere dove il post auto uscendo dall'abitazione si percorre un vialetto sempre relativa al condominio e e e e e e ecco qui ci si può parcheggiare l'auto e naturalmente pur essendo in zona centralissima il parcheggio si trova sempre questa è la strada invece da cui si ha accesso con l'auto per poi entrare nel parcheggio un parcheggio esclusivo per i residenti del condominio amici investitori per oggi è tutto ricordate di mettere sempre un bel mi piace al video di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sugli investimenti qui in salento e ci vediamo presto con il prossimo investimento immobiliare qui in salento ciao amici investitori